Per quanto mi riguarda il discorso che ho fatto ai ragazzi è che non dobbiamo guardare i due risultati, anche se è ovvio che è una sfida che si gioca su 180 minuti, però noi sappiamo che dobbiamo andare a fare la nostra partita fuori casa, non possiamo aspettare. Purtroppo ne ho avute di esperienze, sì, alcune positive e alcune negative. Di conseguenza è un campionato a parte, è normale che serve attenzione, serve essere spregiudicati, serve un pochettino di tutto, ma soprattutto serve arrivare liberi con la testa, consapevoli che purtroppo i play-out sono molto differenti dai play-off, perché i play-off si ci arriva attraverso un percorso importante fatto in un campionato, quando si arriva ai play-out vuol dire che sia stato un percorso che non è importante, di conseguenza anche nella testa di questi ragazzi quando si arriva a queste partite si sa che si rischia molto, si rischia perché purtroppo dietro c'è il baratro, di conseguenza, però sappiamo perfettamente il nostro valore, io ho cercato di responsabilizzare i ragazzi, di fargli vedere il più possibile, stiamo studiando e abbiamo studiato l'avversario, non sappiamo ancora come giocherà l'avversario, so come giocheremo noi, so come stiamo giocando, so la voglia che hanno questi ragazzi di togliersi questa soddisfazione, questo sicuramente lo so. Noi stiamo giocando una partita di play-out, è la vita o la morte, mi sembra che qualche giocatore abbia detto che non vuole rischiare di essere messa a spasso, a me non mi interessa come giocheranno gli avversari, io so come dobbiamo giocare noi, ci stiamo giocando la vita, ci stiamo giocando perché una retrocessione è la fine non solo in questo momento per la società del Teramo perché sarebbe ripartire da zero, ma è la fine per molti, di conseguenza sappiamo perfettamente che significa che se loro giocheranno con la grinta, noi giocheremo con due volte la grinta, questo è quello che devono fare i ragazzi. È normale, il bacio del Racino ha delle caratteristiche, in alcune partite è stato un pochettino l'uomo che ha spezzato gli equilibri, dovremmo essere bravi a limitarlo, però secondo il mio punto di vista abbiamo le armi giuste.